Buonasera a tutti e grazie sin dall'inizio della pazienza che avrete nell'ascoltarmi. Veramente rendo grazie al Signore per poter condividere con tutti voi, cultori e amanti della liturgia, alcune riflessioni su questo tema, la via pulcritudinis, bellezza e verità del celebrare cristiano. Proverò a costruire con voi una simbolica cattedrale dello Spirito, con un pronao, tre grandi campate e un abside. Il pronao in realtà è di fatto la bellissima citazione della esoptazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis che abbiamo prima ascoltato. Ma poiché è stata più volte richiamata la scena della trasfigurazione, ho pensato di accennare alla lettura rabbinica del tema dell'Adamo di luce. Come probabilmente molti sanno, in ebraico la parola luce si dice or. La parola pelle si dice hor, anteponendo alla hor di luce una lettera aspirata, zain, che curiosamente significa anche pupilla come parola. Ora, qual è il ragionamento che fanno i rabbini? Quando Dio creò l'uomo lo creò di luce, era l'Adamo di luce. Il peccato fece sì che l'Eterno fu costretto a mettere davanti alla hor originaria, alla luce, quella aspirata che la trasforma in pelle e nasconde così la luce delle origini, hor. Quando però verrà in Messia, l'Eterno farà cadere quella aspirata. Ed ecco che il Messia sarà luminoso della luce delle origini, di un nuovo inizio del mondo, dell'infinita bellezza della luce che risplende. In fondo, l'evento liturgico è quello in cui l'Eterno continua a compiere questo gesto. Toglie quella aspirata che copriva la luce di cui siamo fatti e ci ridona di volta in volta la luce che viene dall'alto, l'umen de lumine, quella luce che Cristo ha portato nel mondo. Ebbene, alla luce di questo prono, io vorrei presentarvi queste tre grandi campate della simbolica cattedrale dello Spirito. La prima è quella che riflette brevemente sul rapporto tra verità e bellezza. La seconda, partendo dall'idea agostiniana di bellezza come ordo amoris, sviluppa il rapporto tra liturgia, verità e bellezza secondo la prospettiva agostiniana. E la terza, partendo invece dalla lettura tomista della bellezza come splendor veritatis, riflette su come la bellezza risplenda nella liturgia come verità che salva. Dunque, attraverso questi tre passaggi, cercherò di rispondere alla domanda che tutti ci motiva, e cioè come la riflessione cristiana sul bello, quale riflesso e splendore del vero, sperimentato e accolto nella liturgia, possa diventare scelta pastorale, itinerario per un rinnovamento della vita ecclesiale in conformità al disegno divino d'amore, rivelato e donato nel bel pastore, o poi men o calossi. Nella conclusione, che è figurata dall'abside della nostra Cattedrale dello Spirito, tenterò di fare delle idee presentate, materia di contemplazione di lode, stimolando a tradurre il logos in himnos, la riflessione in lode alla bellezza e alla verità del Dio tre volte santo. Comincio dunque dalla prima campata di questa simbolica Cattedrale dello Spirito, la liturgia, verità e bellezza. Certamente questo rapporto è radicato nella natura stessa dell'azione liturgica, perché essa rende presente il mistero pasquale, dove Cristo, il pastore bello, ci fa partecipi della vita divina. E' quello che abbiamo ascoltato da Sacramentum Caritatis, in questo bellissimo numero 35, e quello che a sua volta Papa Francesco ribadisce con forza nella Evangelii Gaudium, sottolineando che la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice è fonte di un rinnovato impulso a donarsi. Dunque, la intera storia della fede proclamata, celebrata e vissuta, attesta come l'azione liturgica si compie attraverso un insieme di signa sensibilia, di segni sensibili, che attualizzano nel tempo il mistero dell'incarnazione del Figlio Eterno. Ce lo dice Leone Magno con una frase forte, molto bella, quanto del nostro Redentore si è reso visibile e passato nei Sacramenti. Dunque, la liturgia è come una sorta di prolungamento dell'incarnazione, di sua attualizzazione nel tempo e nello spazio, per renderci partecipi di quel contatto, di quel tocco di Dio, avrebbe detto Josef Ratzinger, che illumina e salva. Fin da subito, aggiunge Papa Francesco, la Chiesa compreso, illuminata dallo Spirito Santo, che ciò che era visibile in Gesù, ciò che si poteva vedere con gli occhi e toccare con le mani, le sue parole, i suoi gesti, la concretezza del Verbo incarnato, tutto di Lui è passato nella celebrazione dei Sacramenti. Insomma, nella liturgia i sensi sono coinvolti quale veicolo per raggiungere i fedeli, per renderli partecipi della vita divina. Anche così risulta evidente, e la liturgia ne è la prova vivente, che il cristianesimo, lungi dall'essere una salvezza dalla storia, una fuga mundi, è una salvezza della storia, dove il Divino entra e trasfigura l'umano con la grazia che in Gesù Cristo ci è stata donata. E allora, ecco una prima riflessione. Che cosa fa sì che nella liturgia verità e bellezza si incontrino? La mia è una risposta molto concreta, prima vista perfino brutale, e cioè ciò che gioca un ruolo fondamentale nella liturgia sono i sensi. Quei sensi che sono il veicolo, se volete, le porte, attraverso cui l'umano è raggiunto dal Divino e a sua volta si mette in comunicazione con il Signore vivente. Una fede educata dalla liturgia, nutrita da essa e celebrata in essa, è una fede che valorizza il sensibile e l'umano in tutte le sue espressioni. Perché quel figlio venuto fra noi si è servito di questi canali. Attraverso l'udito ci ha comunicato la parola di vita, attraverso il tatto si rende percepibile nei gesti sacramentali e nelle opere di carità, si fa il nostro cibo, offrendosi al gusto nel pane di vita e nel vino salutare, attraverso l'olfatto ci fa assaporare il suo profumo, il profumo di Cristo. Pensate all'odore del crisma, dell'incenso, dei fiori, si lascia contemplare attraverso la vista che guarda le immagini del Divino rappresentate dall'arte o i gesti compiuti nella liturgia e attraverso i sensi, insomma, il dono della verità divina raggiunge chiunque la colga con fede. Dunque, dalla liturgia nasce, con sempre nuova freschezza, un popolo di cristiani adulti, chiamati a fare esperienza della bellezza di Dio, a sperimentare il tocco di Dio che cambia il cuore e la vita. Permettete qui che io citi un testo di una persona a cui sono stato molto legato e che ho avuto la grazia di accompagnare all'ordinazione sacerdotale nella Chiesa Cattolica. Parlo di Fr. Max Turian, il teologo dell'Eucharistia, confondatore di Tesea. Ebbene, Max nella sua giovinezza, appena 26 anni, aveva scritto un piccolo libro che è un autentico gioiello. Il libro si intitola così «Joi du ciel sur la terre, introduction à la vie liturgique». «Gioia del cielo sulla terra, introduzione alla vita liturgica». Ebbene, in questo piccolo libro, egli sottolinea come, nella liturgia, facendo esperienza della bellezza di Dio, sperimentiamo la gioia di sentirci amati e diventiamo capaci di un amore che viene dall'alto, ma che trasfigura ed accende la fragilità del nostro essere umani. Ecco allora questa idea centrale. Nella liturgia Dio viene a toccarci attraverso i sensi ed è attraverso di essi che ci trasmette la bellezza del suo amore infinito. Peraltro è quanto Papa Francesco afferma nella lettera, lo dico con sincerità, veramente molto bella, «Desiderio desideravi». Dice così, «La liturgia non ci lascia soli nel cercare un'individuale presunta conoscenza del mistero di Dio. La liturgia ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero che la parola e i segni sacramentali ci rivelano, e lo fa coerentemente con l'agire di Dio, seguendo la via dell'incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo». Ancora una volta, la liturgia ci fa capire come la corporeità, la fisicità, la storicità, nelle sue espressioni più concrete, sono il veicolo e il luogo della presenza di Dio. Come non citare, specialmente oggi, celebriamo Sant'Agostino, un'espressione bellissima delle confessioni. Quando Agostino, e siamo nel capitolo, nel libro decimo, scusate, delle confessioni, scrive così, «Che cosa amo quando amo Te, Signore? Amo una sorta di luce, voce, odore, cibo, amplesso nell'amare il mio Dio. La luce, la voce, l'odore, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me, dove splende alla mia anima una luce non avvolta dallo spazio, risuono una voce non travolta dal tempo, o lezzo un profumo non disperso dal vento, dove colto un sapore non attenuato dalla voracità, dove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà. Questo amo quando amo il mio Dio». E' bellissima questa testimonianza di un innamorato che dice come l'amore all'Eterno che ha afferrato il suo cuore e la sua vita è tutt'altro che disincarnato. E' invece un'esperienza che lo prende totalmente, lo trasforma attraverso i sensi. Ed ecco allora che la tradizione teologica e spirituale ha elaborata quella bellissima dottrina dei sensi spirituali. Io credo che senza tener presente questa tradizione non si capirà mai fino in fondo il valore straordinario che la liturgia ha avuto ed ha nella vita della Chiesa. Che cosa sono i sensi spirituali? Sono quei sensi, i nostri sensi, che toccati dall'azione dello Spirito Santo diventano il luogo e lo strumento dell'azione di Dio in noi. Grazie a questo tocco dello Spirito i sancta, cioè i segni eucaristici, l'olio dell'unzione, l'acqua lustrale e così via, diventano trasmissione del Santo che a sua volta ci rende partecipi della santità sua. Sono i tre significati dell'espressione comunio sanctorum che sin dai tempi più antichi la Chiesa utilizza per definire se stessa. La comunio sanctorum è in primo luogo lo comunio sancti, è lo Spirito che unifica la Chiesa, che passa attraverso i sancta, cioè i segni sensibili della liturgia e genera quella comunione dei santi, cioè quell'unità delle donne e degli uomini in Cristo nello Spirito che fa della Chiesa l'icona della Trinità del Tempo. Ma sottolineo tutto questo avviene attraverso i sensi toccati dallo Spirito, i sensi spirituali come li chiama la tradizione cristiana. Che cos'è questa se non la meravigliosa siun catabasis, cioè a condiscendenza di un Dio che viene attraverso le vie della nostra quotidianità a raggiungerci e a trasformare la nostra vita. Ecco, questa è la vera bellezza della liturgia. È un incontro d'amore in cui l'amato si rende presente e proprio così trasforma la nostra povertà nella sua luce. È quello che, ad esempio, uno dei grandi mistici della Chiesa, San Giovanni della Croce, esprime nella sua bellissima poesia della noce oscura. Dico queste parole una strofa della noce oscura che potrebbero sintetizzare in profondità l'esperienza liturgica. O noce mas amable che alborada, o notte più amabile dell'aurora, o noce che juntaste, amado con amada, amada e nell'amado trasformata. O notte più amabile dell'aurora, o notte che hai congiunto l'amata con l'amato, l'amata nell'amato trasformata. Questa è la liturgia e questo incontro d'amore dell'amato con noi. Ed ecco perché la liturgia non può essere vissuta se non nello stupore, quello stupor che continuamente è stato sottolineato dalla tradizione teologica e spirituale e che Papa Francesco ha fortemente sottolineato come esperienza del tocco di Dio, della sua presenza come bellezza e verità. Quali sono allora i due grandi sviluppi che questa riflessione avrà nella tradizione cristiana? Possiamo dire che la riflessione cristiana sulla bellezza che ora io applicherò alla liturgia si è espressa in due grandissimi maestri Agostino e Tommaso. L'idea di Agostino è l'idea classica della bellezza, la bellezza come proporzione armonia come forma in latino come sappiamo bellezza si dice bello si dice formosus cioè che afforma armonia e accanto a questo l'altra bellissima idea ripresa e approfondita da Tommaso d'Aquino la bellezza come come fulgore splendore che ci raggiunge ci tocca e ci cambia. Ecco nelle due parti seguenti io riprendo queste due concezioni della bellezza e mi sforzo di capirle alla luce della liturgia anzitutto la concezione agostiniana c'è un libro che consiglierei molto ricco di Ciull Dio e il bello in Sant'Agostino in cui egli ci fa capire che Agostino durante tutta la sua vita prima e dopo la conversione si è occupato di un unico tema la bellezza perché vedeva in questo tema la via umana per accedere a Dio e la via divina per accedere all'uomo che cos'è dunque la bellezza per Agostino possiamo dirlo già con le parole iniziali di quel bellissimo testo del libro decimo delle confessioni tardi ti amai bellezza tanto antica e tanto nuova tardi ti amai che cosa Agostino ci sta dicendo della bellezza in queste parole scaturite dal suo cuore di innamorato di Dio toccato dalla grazia la prima cosa che colpisce che Agostino dà del tu alla bellezza cioè per Agostino la bellezza non è qualcosa se ero te amavi tardi ti ho amato ho amato te bellezza tanto antica e tanto nuova dunque la bellezza ha un carattere personale dialogico la bellezza non è qualcosa che tu possiedi ma qualcuno che ti possiede qualcuno che ha raggiunto il tuo cuore la tua vita io non sarei quello che sono se non fossi stato raggiunto e toccato da Dio e dalla sua bellezza nel momento della mia conversione e in cui ho scoperto la mia vocazione quella che quasi 60 anni fa mi ha portato poi a diventare sacerdote e ora essere anche vescovo dunque il tu rivolto alla bellezza la seconda cosa che Agostino afferma è che questa bellezza è divina perché solo Dio è tanto antico e tanto nuovo cioè è una bellezza eterna ma sempre viva degna di un amore assoluto dunque la bellezza è qualcosa qualcuno non qualcosa la bellezza è il tu divino che viene a noi quel tu che si manifesta certamente nelle sue creature ma bellezza prima e ultima si è manifestata nel figlio dell'uomo fatto uomo per noi ecco allora che la bellezza di Dio ha raggiunto Agostino attraverso la via dei sensi in modo particolare letta alla luce dell'incarnazione del figlio del verbo tutto il suo cammino è un cammino dalla bellezza alla bellezza dal penultimo all'ultimo per ritrovare il senso e la misura della bellezza di tutto ciò che esiste nel fondamento di ogni bellezza troviamo ancora nelle confessioni questa bellissima domanda non è forse vero che noi non amiamo che il bello noi possiamo amare soltanto il bello ebbene se questo è vero la forza di attrazione della bellezza è quella dell'amore è l'ordo amoris il mondo del bello Agostino allora pone la domanda ma perché ci attira tanto l'amore che si esprime si offre ci raggiunge nella bellezza siamo noi che lo percepiamo o è il bello che viene a noi guardate che questa è la domanda fondamentale di Agostino su cui si gioca il discrimine fa una visione umana solo umana se volete agnostica del mondo e una visione invece che si apra alla sorpresa di Dio e dal suo avvento Agostino uomo che fino in fondo ha sperimentato l'oggettività di quella luce venuta dall'alto sceglie senza esitazione la seconda via il bello non è bello perché piace ma il bello è bello perché è bello cioè il bello è un dono dall'alto è una luce che viene da Dio e ultimamente dalla Trinità eterno evento dell'amore guardate queste frasi di Agostino ecco sono tre l'amante l'amato l'amore nella Trinità si trova la fonte suprema di tutte le cose la bellezza perfetta vedi la Trinità se vedi l'amore dunque la bellezza ci attrae perché ci offre l'amore che ispira l'intero movimento di ritorno del creato al creatore la bellezza dell'amore infinito apparso in Gesù suscita l'amore alla bellezza che di grado in grado fa percorrere all'uomo la via che porta alla gioia di Dio tutto e in tutti ebbene la liturgia è annuncio celebrazione e dono di questo amore ed è questo che rende la liturgia l'evento in cui sul sacro monte ci viene rivelata donata la teofania di Dio voi sapete che nella Bibbia tutte le teofanie avvengono sul monte e questo è anche il motivo per cui nella tradizione cristiana l'altare è sempre sopra dei gradini che devono far memoria del monte al quale bisogna scendere ebbene su questo monte è Dio che viene a noi è il pastore bello che ci trasforma come ci trasforma ecco una frase totalmente agostiniana inserita anche in alcuni inni della liturgia novi novum canamus canticum noi cantiamo il cantico nuovo perché siamo stati fatti nuovi toccati dalla bellezza di Dio trasformati da questa bellezza dunque l'ordine e la disciplina liturgica non sono altro che custodia della bellezza al servizio di una fedele irradiante attualizzazione dell'amore scrive Pavel Floriansky questo grande scrittore russo su cui tanto abbiamo da dire la verità manifestata è l'amore l'amore realizzato è la bellezza nella liturgia è questo splendore dell'eterno è questa bellezza che ci dona pace armonia comunione dunque la visione agostiniana fa della bellezza il luogo in cui la proporzione o l'armonia si realizza della liturgia il luogo in cui la comunione ecclesiale si fonda si esprime si nutre e proprio per questo la liturgia ci dona gioia e pace Agostino dice lì cioè nella liturgia eterna di cui quella terrestre è anticipazione ci riposeremo e vedremo vedremo e ameremo ameremo e luderemo ecco ciò che sarà alla fine senza fine questo è un primo quadro la bellezza come forma armonia pace accanto al quale si congiunge una seconda visione che sarà quella dominante nel secondo millennio cristiano qua mi rifaccio non solo a quel bellissimo studio di Umberto ecco sulla estetica di Sant'Omaso d'Aquino la sua tesi di laurea che lui non ha mai rinnegato anzi ha ripubblicato dopo molti anni senza minimamente cambiarla ma mi rifaccio alla convinzione che questa visione della bellezza che Tommaso fa sua sarà poi quella che ispirerà addirittura il moderno fino agli esiti del secolo ultimo cioè una visione che in tante versioni religiosa teologica spirituale ma anche laica perfino come dire uso una espressione grossa atea ha poi percorso l'intera storia dell'Occidente ebbene questa definizione della bellezza la prendo in modo particolare nella pars prima della summa teologia Tommaso come sapete ha strutturato la summa in maniera geniale la summa è fatta di tre movimenti l'exitus adeu il reditus ad deum e all'incontro dei due movimenti Cristo quindi è una visione organica estremamente luminosa chiara ebbene questa visione Tommaso la porta anche nella concezione della bellezza la sua tesi è questa la bellezza ha a che fare con ciò che è proprio del figlio traduco il linguaggio secco della sua scolastica in questi modi se vuoi capire che cos'è la bellezza contempla Gesù ama il Cristo è lui la vera scuola della bellezza ma perché in Gesù il Cristo la bellezza si manifesta e si dona per questi tre motivi primo nel Cristo c'è l'integritas la totalità dell'amore divino Dio non avrebbe potuto darci più amore di quanto ci ha dato in Gesù dunque se sei un assetato di bellezza e un assetato d'amore sappi che troverai al massimo livello nel grado più profondo la bellezza e l'amore nel verbo fatto carane ma questa integritas questa totalità si esprime con due vie dice Tommaso negli stessi articoli primo questo 73 articolo 1c la proporzio e la claritas finché parliamo di proporzio Tommaso non fa altro che riprendere Agostino la bellezza è armonia è pace è comunione quando celebriamo una liturgia bella cresciamo anche nel nostro essere uno nell'amore dei tre che sono uno ma accanto alla proporzio Tommaso sviluppa l'altro motivo quello che in Agostino era assente anche se una piccola un piccolo accenno lui lo ha nel De Trinitate e cioè il motivo della claritas che cos'è la bellezza come claritas non è una bellezza armonica pacificante la claritas è come una folgore una luce che ci trapassa da una parte all'altra è qualcosa che noi non afferriamo ma che ci tocca trasforma cambia potremmo dirlo con un'espressione bellissima che io trago dall'inno delle lodi del lunedì della terza settimana splendor paterne gloria de luce lucem proferens lux lucis et fons luminis diem dies illuminans o splendore della gloria del padre luce della luce luce della luce sorgente della luminosità giorno che illumini il giorno la claritas è lo splendore che illumina l'intelligenza il tutto che ci raggiunge ci tocca ci trasforma perfino ci travolge e ci cambia dunque non c'è solo una visione pacificante della bellezza c'è una visione della bellezza esprimo il termine e poi cerco di chiarificarlo agonica cioè c'è una bellezza che è lotta che è passione che è tormento non è solo la bellezza che ti acquieta ma la bellezza che ti rapisce ti incanta ti ferisce è quello che per esempio Tommaso esprime nell'adoro te devote che cosa dice in realtà Tommaso in questo testo straordinario il Dio nascosto si offre nei segni sacramentali lasciandosi contemplare in essi come l'approdo a cui il cuore di chi crede può totalmente abbandonarsi in un'unione di vita piena e bella come può essere solo quella in cui l'infinito si fa piccolo per essere toccato da noi i sensi sono rapiti dall'esperienza della fede che risponde all'ascolto della parola e questa partecipazione nel tempo della bellezza divina è pegno anticipo e promessa della bellezza eterna Iesu quen velatum nuncaspicio oro fiatillud quod dansitio utter te rivelata cernens face visus imbeatos tua gloria dunque la meditazione di Tommaso sulla bellezza unisce due mondi l'anima greca che coniga il molteplice all'ordinata presenza dell'uno e l'anima ebraico cristiana con la sua fede nel Dio entrato nella storia che rompe nella notte del tempo come luce come fuoco divorante che parla le parole degli uomini e stringe alleanza con loro fedele alle promesse fino al farsi carne del figlio a definire il bello ecco l'ispressione sintetica della seconda seconda e la questo 145 l'articolo 2 dice a definire il bello concorrono sia la luminosità che la proporzione dovuta Tommaso punto d'incontro delle due anime cristiane e sarà lungo questa via che nascerà la parola che poi avrà successo nelle lingue romanze perché noi diciamo bello il bello ce l'ho spiegato Tommaso perché il la bellezza non è altro che l'infinito bene il bonum che si è fatto piccolo per essere toccato e amato da noi bonicellum ed ecco che da bonicellum nasce la parola bello il bello non è altro che un bene piccolo che si è concentrato per essere amato per raggiungerci oserei dire il bello è il minimo infinito cioè l'infinito che si consegna nella fragilità di un segno di un gesto di una parola esattamente come avviene nella liturgia ed ecco perché non esito a concludere che anche per Tommaso la grande scuola dove lui ha imparato a conoscere il bello a definirlo come bonicellum e accogliere la luce ma anche la pace che la bellezza dona è stata la scuola della liturgia ecco perché ho voluto citare l'adoro te devote che nasce proprio dall'esperienza liturgica del sacrificio pasquale attualizzato nell'eucharistia e dalla adorazione che è preparazione e prolungamento di tutto questo come vi avevo annunciato alla fine di questa cattedrale dello spirito col prono rapporto fra verità e bellezza nella liturgia la prima campata la tradizione agostiniana la bellezza come forma e dunque armonia e pace e la tradizione etomista la bellezza come splendor come claritas e dunque come trafittura d'amore a conclusione di questo cammino una sorta di abside finale dove il logos vorrebbe diventare himnos come lo faccio come vivo questo passaggio ho scelto di viverlo con una grande innamorata della liturgia Raissa Maritain la moglie di Jacques che come sapete come lui era arrivata dall'ateismo alla fede Jacques era protestante diventa cattolico Raissa viene dalla tradizione ebraica si apre alla fede cattolica ebbene Raissa scrive fra le sue poesie una lirica bellissima che si chiama Transfiguration una lirica che evoca esattamente il potere trasformante vivificante che ha l'incontro col Dio vivente vissuto nella celebrazione liturgica lei che quotidianamente viveva di Eucharistia dice così quando ti avrò vinto o mia vita o mia morte quando ti avrò vinto amore e sarò fatta conforme all'amore eterno come un uccello che batte le ali che discioglie nel suo volo i legami della terra quando ti avrò vinto stile fascino della felicità ecco un primo dato in realtà l'incontro con la bellezza è agonico è una lotta una lotta dove vince chi perde cioè perdendo con la lotta con Dio vinciamo e allora quando trovo vinto mia vita o mia morte continuerai essa allora avrò conquistato la mia libertà celeste quando avrò sconfitto la gioia e lo sconforto quando avrò superato le vie dei desideri e avrò scelto il cammino più duro la liturgia è una lotta dove occorre perdere occorre che il desiderio che è l'anima profonda della liturgia peraltro sapete che il desiderio viene da desideribus dalle stelle in cui gli aruspici leggevano le sorti ebbene questo desiderio che anima la liturgia si scontra con l'apparente silenzio a volte di Dio o con la sua parola che a volte viene a giudicare a contestare le nostre presunzioni e certezze quando avrò scelto il cammino più duro la liturgia è notte e le luce come il cielo notturno sconfinato e puro nell'armonia vera di tutte le stelle sarà il mio cuore nell'armonia della grazia ma vedete com'è bella la conclusione alla fine di questa lotta di questa liturgia di passione e d'amore di sconfitte e di vita ma ti avrò salvato amore di te avrò salvato la vita e non la morte e ti avrò incontrato felicità dopo aver dato al mio signore tutto di me stessa nella liturgia non ci si può consegnare metà o ci si dà totalmente ci si lascia totalmente afferrare o non la si vive come un vascello fortunato che rientra nel porto col suo carico intatto approderò in cielo col cuore trasfigurato recando offerte umane e senza macchia anche questa conclusione è bellissima perché ci fa capire che la festa del cielo non è altro che una liturgia eterna in cui continuare offrire il sacrificio il nostro quello di Cristo nella gioia e nella gloria senza fine del Padre in eterno grazie